La Ternana riprende a vincere e divertire. 4-1 al Foggia e la sconfitta di Verone alle spalle. Il festival del golo lo apre Perna dopo 20 minuti. Poi nella ripresa Concas e Piccioni archivino la pratica rossonera. Quadrini accorcia ma l'Aketeb infila ancora Milan e Umbri in vetta. Con un preciso colpo di testa di Ceccarelli, in pieno recupero, il Verona sbanca Ravenna e sale al secondo posto. Pescara andrà invece risolto da un rigore di ganci che consente a Biancazzurri di rimanere in corsa per il primato. Bene anche il Pescina che viola il progredito di Marcianise grazie a Ferraresi e Ciotos e sia stessa a centro classifica. Pari e patta tra Taranto e Reggiana, il cambio di panchine in casa Rossoblu non ha mutato le cose e Monoc è costretto ad accontentarsi del pareggio. Stesso risultato a Cosenza tra Rossoblu e la Virtus, un punto buono specialmente per il Lanciano e mister Pagliari che raffredda così la panchina divenuta incandescente nelle ultime settimane. Torna al successo il Rimini che con una red di Longobardi piega la cavese in 10 per l'espulsione di Bacchiocchi a metà primo tempo. 1-1 a Ferrara tra la spalla e il Potenza. In vantaggio con Berardi, gli ospiti si sono visti rimontare da una rete di Meloni a inizio ripresa.